Se il Covid ha dato una mazzata pesante al settore turistico, il caro Bollette è stato il colpo di grazia. Lo sta vivendo sulla sua pelle Matteo Rizzante, noto albergatore jesolano, titolare di sette strutture ricettive, compreso l'hotel Sorriso. A causa di una bolletta del gas appena ricevuta, Rizzante ha deciso di non riaprire come invece faceva solitamente in questo periodo. Poco più di 17.000 euro nel mese di dicembre, quando lo scorso anno aveva pagato 5.350 euro. Meno di un terzo. Ci siamo ritrovati in una situazione qui a gennaio, onestamente al di fuori dal nostro controllo, che è appunto quello del caro Bolletta, già comunque da noi denunciato nel mese di novembre, poi rinfrescato nel mese di dicembre, arrivati a gennaio abbiamo dovuto prendere la decisione di non riaprire più alcune delle nostre strutture e concentrare gli sforzi su una sola. Purtroppo questo è uno scenario che so che ha toccato tutte le aziende e toccherà tutte le famiglie. Il grido d'allarme è generalizzato. A Jesolo su 360 hotel solo 30 hanno la licenza per tenere aperto anche d'inverno, commenta Alberto Maschio, il presidente di AIA. Ma il problema si porrà anche per quelli che apriranno in primavera-estate continua. I più fortunati si troveranno con aumenti del costo dell'energia del 208%, altri arriveranno al 280. e di aiuti dal governo non ne arrivano. Il non affrontare l'argomento dell'ultimo trimestre lo trovo veramente un arranzatevi. Ecco, non so come tradurlero politicamente, non sono politico, ma la realtà è questa. E oggi appunto ho dovuto prendere la decisione di due strutture in realtà che normalmente in questo periodo sono aperte. Ecco, dal punto di vista dell'hotelleri saranno chiuse. Rizzante posticiperà dunque l'apertura a marzo, ma l'amarezza è tanta. È un brutto lavorare, la situazione è peggiore dell'anno scorso dal punto di vista mentale, dal punto di vista psicologico perché sono riusciti a creare secondo noi una grande fobia. C'è una paura di uscire che si può tastare e questo lo vivono un po' tutte le realtà.